Buonasera a tutti. Nei giorni scorsi ho deciso di sottopormi a un'indagine sierologica ai fini Covid-19. Questa mattina ho ricevuto l'esito di questa indagine, le mie IgM sono positive mentre le IgG risultano negative. Questo significa che potenzialmente sono all'inizio della mia malattia, tuttavia questa indagine sierologica deve essere riscontrata dal tampone. Domani mattina quindi mi sottoporrò al tampone per verificare effettivamente se sono positivo al Covid, ovvero negativo. Fino a quel momento io resterò in isolamento e fortunatamente le mie condizioni di salute sono ottime, non ho febbre, non ho tosse, non ho raffreddore e quindi devo dire che sono sereno. La mia vita quindi continua, oggi ho già incontrato via Skype più volte i dirigenti comunali, ho fatto delle riunioni con le posizioni organizzative, porto avanti il mio lavoro di studio. Non appena avrò l'esito del tampone ve lo comunicherò, fino a quel momento giornalmente vi terrò naturalmente al corrente di quelle che sono le mie condizioni di salute. Buona serata a tutti.